non così in fretta Angel Bunny o finirai per farti venire il mal di pancia dai non ti offendere non volevo interrompere il tuo pasto dove stai andando? ma che caratterino, su ancora tre morsi, facciamo due, danno almeno uno, avanti ti prego ehi va tutto bene Angel Bunny, stai tossendo perché un pezzo di carota ti è andato di traverso, vuoi che ti porti un po' d'acqua? vuoi dirmi che è per colpa di quella nube di fumo nero enormi minacciosa? d'accordo, lo prendo per un sì un vero amico non l'ho avuto mai finché non stai a farti per me avventure e allegria cuore in poi amore sia si gentile dai facili la magia è insieme a voi si va i migliori amici che potrai provare aiuto 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 c'è una terribile nube di fumo nel cielo viene verso di noi sei sempre la solita fifona eccomi qui solo per voi la futura campionessa di palleggi di equestria cinquantasei cinquantasei organizziamo una bella festa ragazzi no Pinkie Pie questo non è proprio il momento di festeggiare non vorrei scatenare il pane che devo procurarmi dei palloncini uno per ogni pali di pane c'era c'era del fumo un fumo nero e tocca già il fumo certo vediamo quanti ne servono uno due tre quattro trecento quarantacinque trecento quarantasei è brava Pinkie Pie adesso devo ricominciare temo che dovremmo ricominciare tutti in un altro posto perché quello dove stiamo sta per Rainbow Dash aspettami oh vi prego questa è un'emergenza è necessario che tutti i buoni sappiano ascoltate una nube di fumo si sta avvicinando ai questri una nube di fumo si sta avvicinando ai questri ho detto io non preoccupatevi princess Celestia ha inviato una lettera che informa che non proviene da un incendio ah grazie al cielo beh si da un drago oh c-c-c-c-reago hai detto per tutte le nubi di fumo mi volete spiegare che cosa ci fa un drago ai questri un pisolino eh la principessa dice che sta schiacciando un pisolino e russando produce tutto quel fumo probabilmente non sta bene dovrebbe farsi vedere da un medico beh per fortuna almeno non sputa fuoco e noi intanto cosa dovremmo fare ce l'ho io la risposta lo cacciamo via prendi questo e cosa questo e dobbiamo trovare il modo di incoraggiarlo a fare il suo pisolino altrove princess Celestia ci ha affidato questa missione e non possiamo fallire altrimenti Equestria sarà invasa dal fumo per i prossimi cento anni oh meno male che è soltanto un sonnellino allora Bonnie procuratevi in fretta delle provviste dovremo affrontare un lungo viaggio ci ritroviamo qui tra un'ora esatta ok ragazzi avete sentito il destino di Equestria dipende da noi siete pronti ad affrontare il drago ce la possiamo fare sì ce la possiamo fare beh a dire la verità a dire la verità a dire la verità è una verità questa è la verità la verità